Distinto dalla categoria. Chi è il marabutto? Commento. È il santo musulmano venerato nel Maghreb, distinto dalla categoria dei santi discendenti da Maometto o sceriffi. Marabutto è anche il sepolcro dei santi maghrebini. Questi sono dediti alla vita ascetico-mistica, ma sono anche in contatto con la popolazione che ricorre ad essi in molte occasioni. È da notare come è evoluto di qualsiasi religione, anche quello che si crede ateo è un mistico che come tale vive meno di mente e più di sentire.